Un veloce fronte freddo da nord-ovest passerà sulla regione nella prima mattina di sabato, giorno dell'Immacolata. In seguito affluiranno correnti nord-occidentali in quota che interesseranno la regione nella giornata di domenica. Aria più fredda in quota arriverà nella giornata di lunedì e per il resto della settimana. Prevediamo quindi per sabato, cielo in genere nuvoloso al mattino con precipitazioni sparse, da deboli a moderate localmente più abbondanti, specialmente verso est, sulle zone sud-orientali in particolare della regione. qualche deboli nevicate in montagna, oltre gli 800 mm circa. In mattinata soffierà a tratti qualche raffica di vento da nord-est, specialmente verso la costa e in quota in montagna. Nel pomeriggio venti deboli. Temperature ancora stabili tra 5 e 11 gradi in pianura, tra 7 e 10 sulla costa. Domenica cielo in genere variabile, con spazi più ampi di sole verso la pianura e la costa occidentali, qualche nube più invece a ridosso delle prealpi. Sarà possibile anche qualche sporadica precipitazione e un po' di nevischio sulla cresta di confine e con l'Austria sulla fascia alpina. Temperature in lieve calore minime tra 2 e 4 gradi in pianura, valori intorno ai 6-7 gradi sulla costa, massime rimangono intorno ai 10-11. Lunedì ce l'ho ancora variabile per passaggio di nubi da nord, ma le temperature inizieranno a diminuire, qualche gelata possibile di notte e primo mattino sulla pianura, temperature più umite naturalmente sulla costa, un po' più freddo i giorni successivi. E dall'osservatorio Metà dell'ARPA, Arturo Pucillo, vi saluta.